Bella raga, giorno di paga, lo prende in bocca poi lo fa sparire tipo maga, sti streamer parlano ma nessuno di noi li caga E eccoci qui con il vostro marrone per un nuovo consiglio cinematografico, un film che dovete assolutamente vedere Del buon vecchio Bong, autore di capolavori come Snowpiercer, Parasite, Memorie di un assassino e tanti altri Partiamo proprio da Bong, regista che adesso è diventato incredibilmente noto dopo i tanti Oscar vinti con Parasite Ho recensito già il film, in realtà anche Snowpiercer se non sbaglio era stato citato in questo canale in un video corale Forse un video di risposta a Adrian Fartate, Uesa, potrei dire una cazzata ma si parlava di distopie o qualcosa del genere Comunque cercate Snowpiercer, Mr. Marra e trovate qualcosa Tra l'altro vi invito ogni volta che avete un dubbio, una perplessità in tal senso Forse Marra questo film ha recensito, forse no, invece che scrivermelo nei commenti, cercate prima E poi commentate, cosa che tra l'altro sto apprezzando moltissimo perché come già detto mi dà un sacco di spunti E capisco anche quali sono i film che più vi interessano Allora, è importante prima di approcciarsi a questo film comprendere un pochettino la poetica e lo stile di Bong Perché se non avete mai visto un suo film inizialmente potreste trovarvi un po' interdetti Dato che lui utilizza una tecnica particolare Intanto cerca di creare una commistione tra vari generi cinematografici E anche tra varie sensazioni che vuole suscitare nello spettatore Si passa dall'ironia grottesco all'horror al dramma Con una nonchalance che può appunto essere disarmante per qualcuno Lo stesso Parasite alternava dei momenti di ironia, di sarcasmo a momenti decisamente crudi Questo film del 2006 è assolutamente coerente con questo approccio cinematografico del buon vecchio Bong Perché? Perché si tratta essenzialmente di un monster movie Anche abbastanza classico in certi suoi stereotipi Ma si passa dalla sottile commedia al dramma vero e proprio Alla critica sociale e politica Cosa assolutamente difficile da fare Questo film alla sua scita è stato definito uno dei migliori monster movie di sempre E sicuramente è uno dei più riusciti post anni 2000 Su questo non c'è alcun dubbio Prende qualcosina da alcuni caposaldo di questo genere Sicuramente c'è qualcosa dello squalo Sicuramente c'è qualcosa di Tremors, soprattutto nella creatura Anche di Alien E Godzilla, indubbiamente, soprattutto per la componente sociale legata al mostro Chi è il vero mostro? Tra l'altro vi consiglio anche di recuperare qui sul canale Una lezione di cinema che ho fatto assieme a Valentina Ariete Sui mostri Lì parliamo dei mostri Universal Quindi il monster movie però è inteso più come horror classico americano Eh sì, certo, hanno rifatto Kong Skull Island Con Tommy Hiddleston e Brie Larson Che serviva a rintrodurre King Kong Poi hanno fatto, anzi no, prima ancora Hanno fatto il Godzilla con Bryan Cranston Kong Skull Island No, Godzilla King of the Monsters Che è uscito l'anno scorso E poi hanno provato pure a fare remake dei mostri Universal Però è che è andata male Tipo Dracula Untold L'Uomo Invisibile doveva essere Johnny Depp Invece non si è mai visto Diciamo che il monster movie A cui si rifà quest'opera di Bong È più sulla linea del monster movie asiatico Ecco, quindi Godzilla su tutti Godzilla di fatto che cos'è? È una metafora di tantissimi comportamenti umani La natura che si ribella all'essere umano Che inquina il pianeta Che devasta il pianeta Che non ha assolutamente a cuore nulla E l'inizio di questo film è tra l'altro meravigliosa La carrellata iniziale Dove si guidano tutte le boccette Di sostanze tossiche Ecco, questo film va assolutamente in quella direzione Sul finale poi Esploderà proprio in una critica Molto feroce Tra l'altro Vedere questo film In questo preciso momento storico È anche Stanza inquietante Ci sono molti film Che hanno trattato il tema della pandemia E sono tutti in linea Con molte cose Che vediamo qui nella realtà Ieri tra l'altro Hanno emesso una nuova ordinanza Che Ha sancito la chiusura delle discoteche Perché non c'è solo Il coronavirus che gira Dentro una scuola C'è sta pure tutta la merda Che avete fatto negli anni Eh? I topi La sosseglia La schifessa che c'è sta E quel genio del ministro Assolina Pensava di risolverla coi banchi Con le rotelle Le rotelle Sono quelle che si è persa qui dentro Sono quelle che non uscia più dentro Sta cazzo da testa Te giuro regà Mi viene il sangue al cervello Però Questi sono temi Che magari tratteremo sul Cerbero Ah tra l'altro Il Cerbero tornerà Il primo settembre Alle ore 15 Con una grande maratona Che durerà fino alle ore 22 Eh Ci siamo presi un mesetto di stacco Che dire Eh Si parla di quarantena Mascherine Autorità Che sono decisamente inette Che non si fanno alcun problema Ad accettare mazzette Che non sanno gestire Che non sanno controllare E Diciamo anche Alcune componenti Che possono prestare il fianco A complottisti Ovvero Inserimenti da parte di governi Esteri Rispetto Alla Corea In questo caso Quindi il governo americano Che interviene Utilizzando la scusa del virus La scusa della Pandemia Per fare Dei loschi Intrighi Perché questo film È meraviglioso Lo diciamo subito Proprio perché Come ho detto poc'anzi Bong Riesce A unire Generi diversi Riuscendo a mantenere Una coerenza Una compattezza Del film E tu passi da Momenti in cui Ridacchi Sorridi A denti stretti Come quando Si parla Delle Particolari Diciamo Abitudini Del protagonista Dalle scorregge Alla sua sonnolenza A momenti Di estremo dramma Anche nello stesso Monologo Del papà Che parla Proprio di Questo ragazzo Il protagonista Tra l'altro Attore incredibile Che ha subito Nella vita Determinate Circostanze E lo hanno portato A qualche deficit Da vari punti di vista E nella stessa sequenza Nella stessa scena I protagonisti I personaggi Ai quali Il papà si rivolge Si addormentano Anch'essi Quindi è Veramente Un momento Grottesco Ci sono Altre citazioni Interessanti Ne ho scovata Una Un momento in cui Un ragazzo Elenca I cibi Che vorrebbe mangiare Una volta Uscito Da una Condizione Decidamente Spiacevole Non voglio fare spoiler In questa recensione Anche se il film È abbastanza vecchiotto Preferisco Tanto non ne ho bisogno Ecco Elenca tutti I cibi Che vuole Mangiare Una volta Uscito Da quell'inferno Ed è Secondo me Una citazione Fino all'ultimo respiro Di Godard Ci sono dei tagli Molto Repentini Durante l'elenco Cosa che fa Anche Godard La cosa bella La cosa bella di Bong È che lui Non si preoccupa Minimamente Di dare Allo spettatore Ciò che vuole Non è mai conciliatorio Non ti dà mai Non ti dà mai il contentino Non ha paura Di mettere in mostra Le brutture della vita Snowpiercer Anche se c'è un finale Speranzoso In Parasite Memory of the Murders In questo film Ti lascia sempre Con un velo Di Malinconia Con un velo Di Tristezza Ma anche con Uno spunto Ecco per Per sorridere Per prendere la vita Anche Nella sua parte Migliore Lascia sempre Questi finali Che non sono mai Soddisfacenti Al cento per cento Ma non sono Neppure Catastrofici Neppure distruttivi Sembra che voglia Dirci La vita È piena di Momenti Orribili Tragici Irrecuperabili Però Abbiamo questa Quindi Viviamola Sempre con Un pochino di sarcasmo Con un pochino di Autoironia Il mostro A livello di Realizzazione È fatto molto bene Considerate anche Che è un film Del 2006 Quindi Gli effetti di questo tipo Invecchiano Ad una velocità Incredibile In certe sequenze Non si sposa Proprio perfettamente Con il resto Del comparto visivo Però Si entra Immediatamente Nella Nella dinamica Insomma Di questo racconto Proprio perché Riesce a Prendere Un evento Macroscopico Ok Quindi una pandemia Un virus Un mostro Un mostro Di Loch Ness Che poi Ripeto Chissà se è vero mostro E Spostarsi Da questo macrocosmo Ad un microcosmo Ovvero la famiglia Quindi noi Seguiamo Tutto questo evento Mondiale Dall'ottica Di una famiglia Dal dramma Della famiglia E Volutamente Tutto quanto È veicolato Dagli occhi Di questi Uomini Che Semplicemente Vogliono Riportare A casa La piccola Una Ragazzina Che è stata Presa dal mostro Un po' come In King Kong C'è Una Peculiarità In questo mostro Ovvero Quando Si aggrappa Poi lo vedrete All'interno del film Su Sul ponte E Scende Nell'acqua Si cala Nell'acqua Fa una mossa Che mi ha ricordato Qualcosa Però non riesco Ad inquadrare Il film Forse Venom Però Non saprei Non saprei L'ho vista Già In altre In altre Pellicole In questa Movenza Particolare Del mostro Magari voi Potrete aiutarmi In tal senso Che dire Bong È uno dei più grandi Registi Viventi Uno dei pochi Che riesce In questa Impresa Di prendere Generi Anche abbastanza Consumati E dar loro Una Nuova Linfa Un nuovo Senso Ultima menzione È la colonna sonora Che al di là Dei brani Che sono perfetti Soprattutto per Enfatizzare Certi momenti Drammatici E di paura Un po' come Succedeva con Lo squalo Del maestro Spielberg Ecco C'è una perizia Incredibile Nell'utilizzo Del silenzio Durante Momenti Di agonia Di strazio Come Mozza Le urla Dei protagonisti Con il silenzio Bong È veramente Veramente Da maestro Assoluto Quindi Come al solito Aspetto i vostri consigli Qui sotto Per prossime recensioni Guardate tutti i film Di Bong E se non l'avete visto Recuperate assolutamente Questo piccolo capolavoro Questo monster movie Che riesce A far passare Anche con una Fluidità E con una semplicità Dei concetti interessanti Sociali Politici Ed esistenziali Chi è il vero mostro? Ciao ragazzi Scoprite chi è il vero mostro A Notre Dame